Romina Power regala una speranza ai fan L'ex moglie di Albano Carrisi tramite social, fa sognare e sperare i fan per un ipotetico riavvicinamento Romina Power, sempre molto attiva e seguita sui social dai tanti fan che ogni giorno la riempiono di like da ogni parte del mondo, continua a regalare una speranza e soprattutto fa sognare le tante persone che sperano in un ritorno di fiamma con il suo ex marito Albano Carrisi Proprio per il leone di Cellino San Marco, la figlia dei due famosissimi divi di Hollywood sembra essere tornata dal ritiro spirituale da vera guerriera, sempre più intenzionata a riprendersi ciò che era suo e che forse, lo sarà per sempre Questa volta Romina Power ha postato sul suo profilo Instagram, video virgola un messaggio che lascia spazio all'interpretazione e ognuno può vedere ciò che vuole, noi siamo ciò a cui pensiamo Tutto ciò che siamo nasce dai nostri pensieri. Con i nostri pensieri si forma il mondo. Un messaggio senza troppi giri di parole che lascia libero sfogo all'immaginazione ma che in realtà riprende un pensiero buddista Romina infatti, non ha mai nascosto la sua fede religiosa e spesso esordisce con dei messaggi pieni di speranza e d'amore. Tale messaggio però arriverebbe a poca distanza da uno scatto pubblicato da una sua fan page La pagina dedicata alla power avrebbe dedicato all'artista uno scatto che la ritrae mentre guarda il mare con sotto postata una frase, sorrisi sinceri, che tingono di emozioni i nostri ricordi Cosa che non è di certo passata inosservata agli occhi dei tanti fan Al momento la verità sul triangolo lecciso Carrisi Power è lontana ma dagli scatti della quotidianità di Romina si intravedono delle speranze e si respira un senso di attaccamento nei confronti della sua famiglia e dei figli avuti proprio con Albano Proprio in merito alla famiglia, giorni fa sul profilo Instagram della Power è apparsa anche una foto con sua figlia Romina Ilunga R. Albano e Romina di nuovo insieme Mentre nella giornata di San Valentino Albano Carrisi era volato lontano da tutto e da tutti con i suoi figli, video virgola per tenere un concerto in Australia, la coppia artistica potrebbe presto tornare insieme sul palcoscenico A differenza del concerto di Pert dove non era prevista la presenza di Romina, stavolta nel nuovo tour che toccherà la Polonia il duo tornerà insieme. I fan sono già in fermento Chi potrà esserci farà parte di un momento storico e vivrà una sorta di nostalgia canaglia ricordando i b e i tempi che furono A Cellino San Marco sono ancora molte le persone che credono in un ritorno di fiamma tra i due e chissà che concerto dopo concerto, Albano e Romina non riescano a trovare di nuovo anche lintesa sentimentale Alla prossima